Domani prenderà il via la serie di appuntamenti a carattere regionale. Si tratta degli spareggi tra le seconde classificate dei gironi di appartenenza dopo i play-off del campionato di prima categoria. Si parte domani alle ore 16.30 con la prima gara tra il Campomarino e Bois Yeltsi tra le mura del San Cristina. La compagine di Yeltsi, dopo la delusione del primo posto sfuggito al termine della stagione regolare, tenterà di dimostrare tutte le sue qualità, mettendo in difficoltà la seconda classificata del girone C. I ragazzi del presidente Zilembo vogliono giocarsi da fino all'ultimo minuto al massimo delle loro possibilità. Hanno lavorato molto e bene in questi giorni. Chi uscirà sconfitta dal match Campomarino-Bois Yeltsi domenica 7 giugno dovrà andare in trasferta contro il Matese, vincitrice ai play-off del raggruppamento A, mentre chi vincerà dovrà ospitare i bianco-verdi del Matese nella terza gara prevista per domenica 14 giugno. Spazio anche alle finali di play-out del girone B che stanno giungendo ormai al termine. Il Torella del Sagno dovrà attendere ancora per conoscere il nome della sfidante nella finalissima del girone B. La gara tra Cerce Maggiore e Murgansia è infatti programmata allo stadio Ballarin per questa domenica alle ore 16.30. Chi perderà l'incontro ospiterà il Torella il prossimo fine settimana. Queste le ultime gare per la stagione 2014-2015 che dopo il lungo campionato sta giungendo al termine. Stagione impegnativa per tutte le compaggini molisane che hanno regalato agli sportivi molisane tante emozioni e soddisfazione.